Noi, in quanto italiani, stiamo perdendo una guerra che fra l'altro non vogliamo nemmeno sapere di stare combattendo. Ci rappresentiamo il nostro coinvolgimento in Ucraina ed è di questa guerra, anche se non solo di questa guerra, come vedremo che parliamo, con una narrazione molto comoda, piuttosto edulcorata, caratterizzata come sempre dal consueto approccio ecumenico italiano in base alla quale avremmo aderito a una sorta di coalizione del bene, in termini chiaramente sempre ecumenici, per contrastare il cattivo Putin, l'uomo nero, sempre naturalmente per ragioni di ordine morale. La realtà è evidentemente molto diversa e i nostri interlocutori tengono a ricordarcelo. Sostenendo militarmente l'Ucraina, noi siamo in guerra contro la Russia, che infatti ci ha definito paesi ostile, non proprio una cosa da poco. E quindi siamo inconsapevoli di essere in guerra, siamo inconsapevoli di essere in guerra contro la Russia e questo significa che se perderemo questa guerra, cioè se vincerà la Russia perderemo più degli altri, se vinceremo, cioè se vincerà l'Ucraina non vinceremo nulla, perché nella nostra inconsapevolezza non riusciamo neppure a realizzare quale sia oggi la posta in gioco massima del conflitto in Ucraina, cioè la spartizione dell'Ucraina stessa, ammesso che ne resti qualcosa dopo la guerra. Circostanza che invece viene compresa con grande lucidità dagli altri principali sostenitori di Kiev, dai turchi, dai britannici, dai polacchi, che infatti hanno già provveduto a spartirsi informalmente l'Ucraina in zone di influenza con il beneplacido degli Stati Uniti. E qui poi c'è anche un paradosso che potrebbe rivelarsi una beffa. Gli Stati Uniti intendono subappaltare la cosiddetta ricostruzione dell'Ucraina, che viene stimata in una quantità imprecisata di fantastiliardi di dollari agli europei. Quindi è tutt'altro che improbabile che un domani potremmo ritrovarci a finanziare la ricostruzione di pezzi di Ucraina che nel frattempo sono passati sotto il controllo più o meno informale di turchi, britannici, polacchi e quant'altri. Quindi noi in quanto italiani stiamo perdendo la guerra principalmente perché non siamo abituati a occuparci di noi stessi o meglio perché non sentiamo neppure la necessità di doverci occupare di noi stessi perché in fondo pensiamo che ci salveranno gli americani come sempre. Il problema vero di questa fase storica è che Mamma America, come dimostrano abbondantemente i recenti eventi in Medio Oriente e non solo, è totalmente priva di strategia. La crisi identitaria e strategica dell'America è la causa principale di quella che all'IMES abbiamo battezzato guerra grande, una guerra grande che oggi si compone di due fronti principali quello ucraino e quello israelo palestinese che però è centrata su un fronte per il momento ancora freddo, congelato, quantomeno tiepido e che però potrebbe diventare particolarmente bollente che è evidentemente quello di Taiwan. Quindi la crisi identitaria e strategica dell'America è la conseguenza della guerra grande e la conseguenza è che gli avversari dell'America sentono che è arrivato il momento per attaccare l'egemonia globale degli Stati Uniti, per sfidare la superpotenza. Oggi la Russia e l'Iran, domani forse la Cina, la Corea del Nord, la Turchia e si tratta di una convinzione piuttosto ragionevole. Appena pochi giorni fa l'ex presidente americano Donald Trump ha dichiarato che se diventasse di nuovo presidente permetterebbe alla Russia di attaccare qualunque paese della Nato che non soddisfi i requisiti finanziari previsti dalla stessa Nato, cioè dagli Stati Uniti e quindi qualsiasi paese che non spenda una certa quota di PIL per la difesa. In questo contesto particolarmente volatile, per così dire, il complesso delle sfide che ci troveremo a dover affrontare, volenti o nolenti, soprattutto nolenti nel prossimo futuro, è particolarmente imponente e soprattutto inquietante. Ne possiamo accennare qualcuna, tanto per fare un quadro. La crisi identitaria e strategica degli Stati Uniti, che sono evidentemente in preda a una forte tendenza all'introversione e che in termini di proiezione esterna sono oggi concentrati quasi esclusivamente sulla Cina e quindi distratti rispetto a quanto accade in Europa e nel Mediterraneo. Ne consegue profonda crisi dell'impero euro-mediterraneo dell'America, di cui siamo parte fondamentale. Come dimostra abbondantemente quanto è accaduto e quanto sta accadendo in Libia con i russi che si sono insediati in Cirenaica, quanto verosimilmente accadrà in Tunisia e senza dimenticare che nel 2020 è stato l'intervento della Germania, in particolare l'intervento diretto di Angela Merkel e non come negli anni 90 degli Stati Uniti a impedire che le marine turca e greca arrivassero a un incidente che avrebbe avuto evidentemente conseguenze geopolitiche potenzialmente incalcolabili. Dovremo fronteggiare le crescenti tensioni tra il cosiddetto occidente e l'altrettanto cosiddetto sud globale che conta i sette ottavi dell'umanità e in questo senso da parte nostra sarebbe bene analizzare con maggiore attenzione ad esempio le cause anti-occidentali del golpe in Niger e di altri eventi che avvengono in Africa e realizzare che buona parte del nostro destino geopolitico passa per l'Africa e per gli africani in senso strategico, non in senso umanitario, quantomeno non solo in senso umanitario. Siamo in guerra con la Russia mentre la Russia si affaccia o torna ad affacciarsi nel Mediterraneo immaginato e percepito a Mosca come l'unica via d'uscita dal contenimento terrestre americano. Quindi siamo in guerra con un paese che nel frattempo sta installando, progetta di installare molteplici basi navali e militari sulle coste dei nostri mari di riferimento nel Mediterraneo centrale, nel Mediterraneo orientale, nell'Adriatico, nel Mar Rosso. Dovremo fronteggiare sempre di più l'arrembante espansionismo geopolitico della Turchia che si è insediata nella nostra profondità difensiva o meglio proprio dentro casa nostra. La Turchia ha occupato militarmente la Tripolitania e ad esempio di recente ha sottoscritto accordi di cooperazione militare piuttosto profondi con Albania e Kosovo, quindi la Turchia sta tornando potenza balcanica come in epoca ottomana. Dovremo capire come gestire il malfunzionamento, chiamiamolo così, della nostra relazione speciale con la Francia imperniata sul Trattato del Quirinale. Parigi continua a guardarci eufemisticamente con scetticismo e nel frattempo però continua a saccheggiare pezzi della nostra industria. Dovremo fare i conti con l'avvitamento della Germania, grande sconfitta della guerra grande e soprattutto con una dimensione solo apparentemente latente ma in realtà fondamentale della guerra grande che è la resa dei conti tra Stati Uniti e Germania, dalla nostra prospettiva la resa dei conti tra mamma e papà, cioè tra chi ci garantisce la sicurezza e chi ci garantisce il benessere economico. E infine l'Ucraina, la guerra in Ucraina che ha delle dimensioni solo apparentemente occulte che in realtà dovrebbero preoccuparci molto di più della cattiveria di Putin. Molti soldi che i paesi occidentali hanno donato agli ucraini sono spariti nel buco nero della cleptocrazia oligarchica di Kiev. Soprattutto molte armi che i paesi occidentali hanno fornito agli ucraini non si sa bene che fine abbia fatto. E fino a qui il 24 febbraio, quindi l'Ucraina. Poi c'è stato il 7 ottobre, quindi l'aggressione di Hamas a Israele e la conseguente operazione realizzata a Gaza dalle forze armate dello Stato ebraico. E anche qui si combatte a Gaza questa dimensione della guerra grande si gioca o si combatte a Gaza ma evidentemente ha delle ramificazioni molto profonde in una regione estesa dal Nord Africa all'Asia centrale e centrata su quello che a Limes abbiamo ribattezzato Medioceano, cioè Mediterraneo più Mar Rosso, dove sono in gioco i nostri interessi vitali. E anche qui alla radice di questo conflitto c'è la crisi identitaria strategica dell'America perché la dimensione Israele contro Hamas è solo la punta dell'iceberg. Ci sono molte altre dimensioni che si incrociano e si sovrappongono nel conflitto israelo-palestinese. La dimensione della guerra di prossimità tra Iran e Israele, il confronto di prossimità tra Iran e Stati Uniti per interposti Israele e Hamas, fermo restando e questo poi ce lo spiegherà meglio Emily, che questo non significa che l'Iran telecomandi Hamas o che la decisione operativa del 7 ottobre sia stata presa a Tehran, cosa che fra l'altro complica ancora di più le cose. Poi c'è la dimensione Stati Uniti-Israele perché questo conflitto a Gaza sta allargando la frattura latente tra Washington e Gerusalemme. Molti in America e anche in Israele evidentemente temono che la follia strategica di Netanyahu possa condurre Israele sull'ordo del precipizio e molti in America e in Israele temono che iniziative solo apparentemente folcloristiche come quella lanciata dal ministro delle comunicazioni di Israele che quanto ai palestinesi di Gaza ha parlato di emigrazione volontaria imposta che è una formula straordinariamente meravigliosa e però questo tipo di iniziative per molti in America soprattutto nell'amministrazione Biden sono più pericolose potenzialmente per lo stato ebraico che non per i palestinesi di Gaza. E poi infine c'è una dimensione interna all'America nella guerra di Gaza perché lo scontro ormai sempre più aperto tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu non è solo lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro di Israele. Netanyahu è un cittadino americano, è parte fondamentale degli apparati dello stato profondo americano ed è uno dei principali leader se non il principale leader dell'opposizione repubblicana a Biden quindi nel conflitto di Gaza c'è una forte forse preponderante dimensione interna americana e qui torniamo alle origini della guerra grande e tutto questo sta inducendo sempre più strateghi medio orientali a immaginare progetti di ridefinizione dei confini regionali che evidentemente possono innescare effetti domino potenzialmente catastrofici. In questo volume di Limes pubblichiamo ad esempio un'intervista al generale israeliano Jorah Eiland che propone, in realtà lo proponeva già nel 2008, una ridefinizione degli assetti regionali che prevedrebbe una Gaza indipendente allargata a un pezzo di Sinai, l'accessione all'Egitto di un pezzo di Negev israeliano, l'acquisizione da parte di Israele di un pezzo di Giordania e poi l'accessione della Cisgiordania alla Giordania, questo mentre la Turchia si propone con la forza di estendere i propri confini nazionali a parte delle acque controllate dalla Grecia ad Aleppo e a Mosul, mentre l'Iran pensa a Baghdad come la propria vera capitale, mentre ad esempio l'Azerbaijan sposta i confini nel Caucaso a colpi di cannone. Però a questo punto io lascerei che siano Valentina ed Emilia a condurci in questa mischia che infuria alle porte di casa nostra. Grazie per questa panoramica molto completa su tutti i fronti che sono aperti, fronti che direi interni con attori che identifichiamo espressamente come nemici, ma anche con questioni risolte con alcuni alleati. E visto che tu del Medioceano hai esplorato particolarmente bene nell'area mediterranea e torneremo anche dopo sull'area mediterranea, ti chiedo Emilia invece di contestualizzarci un po' la situazione nel Mar Rosso e soprattutto chiarire meglio quali sono gli attori, qual è la posta in gioco in questa zona che come abbiamo detto è molto calda recentemente. Grazie mille Valentina e ringrazio anche il Circolo dei Lettori per avermi ospitato. Si sente parlare tantissimo di Mar Rosso nel corso dei due ultimi mesi, questo diciamo a partire dal novembre 2023 quando il movimento yemenita comunemente conosciuto come Uthi ha sferrato il primo attacco contro una nave mercantile transitante nel Mar Rosso, una nave mercantile con legami con un magnate israeliano. Il Mar Rosso è uno snodo strategico per il commercio marittimo internazionale, vorrei subito condividere con voi alcuni dati anche al fine di comprendere per quale motivo stiamo parlando della crisi del Mar Rosso, siamo preoccupati della crisi del Mar Rosso e che cosa potrebbe succedere qualora appunto questa crisi si prolunghi ancora di più. Nel Mar Rosso transita circa il 40% delle materie prime globali, ogni giorno dovete pensare che circa 6 milioni di barili di greggio e raffinati petroliferi attraversano lo stretto di Bab al-Mandeb, quindi nel Mar Rosso meridionale e di questi 6 milioni tra i 3 e i 4 milioni sono diretti verso l'Europa. Questo naturalmente ci fa capire quanto l'Europa sia la prima regione che sarà profondamente colpita dal protrarsi della crisi del Mar Rosso. Dovete pensare appunto che ancora il 40% del commercio europeo con l'Asia e con il Medio Oriente transita attraverso il Mar Rosso e naturalmente la crisi, l'escalation militare, gli attacchi perpetrati dagli UTI hanno contribuito a sconvolgere la catena di approvvigionamento aumentando naturalmente anche i costi di spedizione sempre dall'Asia verso l'Europa. Per esempio la tratta Shanghai-Genova ha visto un incremento del 350%, quindi potete immaginare. Gli UTI per l'appunto hanno fin dal principio giustificato la loro entrata in campo relazionandola al conflitto a Gaza, quindi sostanzialmente dichiarando che loro non si fermeranno, continueranno ad attaccare mercantili transitanti nel Mar Rosso meridionale e poi nel Golfo di Aden fino a quando non si concluderà l'offensiva militare israeliana a Gaza. Se è vero che l'escalation nel Mar Rosso è sicuramente legata a doppio filo, alla tragedia che si sta consumando sotto i nostri occhi a Gaza e appunto all'offensiva militare israeliana, è anche vero che c'è dell'altro. Nel senso gli UTI attraverso una macchina propagandistica stanno appunto portando avanti, alimentando questa narrativa, ma di base dobbiamo considerare che vi sono dei fattori sia domestici che regionali che effettivamente stanno spingendo gli UTI ad attuare questa serie di operazioni militari. Da un punto di vista regionale sicuramente il movimento yemenita sta capitalizzando sulla guerra a Gaza per rafforzare la propria posizione all'interno della cosiddetta Asse della Resistenza, a guida iraniana, di cui appunto fanno parte ovviamente Hezbollah del Libano, Hamas della Palestina, il regime siriano di Bashar al-Assad e poi tutte quelle milizie sciite filo-iraniane in Iraq. Poi se ci sarà motivo e se ci sarà appunto occasione posso anche approfondire maggiormente il tipo di rapporto che sussiste tra gli UTI, l'Asse della Resistenza e quindi di riflesso anche il tipo di rapporto che intercorre tra gli UTI e l'Iran. Poi ci sono appunto delle considerazioni domestiche e nello specifico io mi vorrei soffermare su tre punti principali del motivo per cui appunto gli UTI stanno capitalizzando sulla tragedia a Gaza. Il primo è incrementare il consenso all'interno del paese. Ricordiamoci appunto che lo Yemen è dal 2014 che è logorato da una guerra che ha una dimensione civile e che poi dal 2015 aveva anche assunto una dimensione regionale con l'intervento dell'Arabia Saudita. Nello specifico gli UTI stanno vivendo in questo periodo una delle massime crisi in termini di supporto interno e di legittimità popolare. Questo naturalmente è dovuto ad una disastrosa situazione economica e ad una catastrofe umanitaria. Di conseguenza fare leva sulla tragedia a Gaza, fare leva anche sul sentimento pro-Palestina che è ampiamente diffuso nel mondo arabo-islamico diventa lo strumento perfetto per poter acquisire consenso interno. Infatti non è casuale che dal 7 ottobre gli UTI nei territori sotto il loro controllo, inclusa quindi anche la capitale sana, hanno organizzato tantissime manifestazioni in supporto della causa palestinese. Addirittura si stima che siano stati arruolati circa 25.000 nuovi combattenti che sempre nella narrativa degli UTI sono destinati a questa nuova brigata diciamo istituita proprio per andare a combattere a fianco della resistenza palestinese proprio perché anche il capo degli UTI per esempio ha parlato di battaglia della resistenza, addirittura si è appellato ai vicini regionali affinché vengono aperti i confini, affinché questi combattenti musedini appunto possano supportare la resistenza palestinese però questo per l'appunto è propaganda. C'è anche poi una questione che ci fa ritornare alla guerra civile in Yemen e quindi al fatto che gli UTI si stanno mobilitando, stanno comunque dimostrando anche le capacità militari acquisite, il proprio arsenale perché l'obiettivo è comunque anche quello di acquisire una profondità strategica all'interno dello Yemen. Ricordiamo appunto che vi è appunto una guerra civile e quindi l'obiettivo è anche quello di conquistare territori strategici per una maggiore legittimazione politica soprattutto per acquisire maggiore autonomia dal punto di vista economico in aree strategiche ancora sotto il controllo del governo riconosciuto internazionalmente e a tale riguardo sicuramente uno dei prossimi campi di battaglia che in realtà è uno storico campo di battaglia fin dal 2014 è proprio l'area di Marib. Marib è ubicato nella parte nord-occidentale dello Yemen ed è un territorio in cui gli UTI è dal 2014 che stanno tentando di avere completo controllo. È un'area ricca di giacimenti gasieri in cui sono presenti anche le più importanti raffinerie del paese oltre ad essere anche un ponte di collegamento con il sud del paese dove vi sono appunto altrettante zone ricche di giacimenti e quindi potete immaginare come gli UTI stiano anche approfittando di tutta questa situazione di tutte queste dinamiche regionali proprio al fine di acquisire una profondità strategica in questi territori. Il terzo punto che vorrei sottolineare è sicuramente il riconoscimento internazionale e la legittimazione del proprio potere. Questo per quale motivo? Perché comunque gli UTI si autodefiniscono come il governo legittimo degli Yemeniti, stanno affrontando dei colloqui di pace con l'Arabia Saudita che è funzionale soprattutto l'Arabia Saudita per finalmente uscire dal conflitto perché non hanno più alcun interesse ad essere immischiati nelle questioni, nelle dinamiche interne allo Yemen e quindi ovviamente acquisire supporto, legittimità nel contesto della guerra a Gaza è funzionale anche per acquisire una posizione possiamo anche dire di maggior forza nei negoziati in corso con l'Arabia Saudita. A tale riguardo infatti vorrei ricordare che nonostante appunto da novembre gli UTI stiano continuando ad attaccare nel Mar Rosso, l'Arabia Saudita in primo luogo non ha per esempio accettato di prendere parte della missione a guida statunitense Prosperity Guardian che tra l'altro a gennaio gli Stati Uniti congiuntamente al Regno Unito hanno lanciato i primi attacchi in territorio Yemenita a gennaio. Il motivo per cui l'Arabia Saudita non ha deciso di accettare di prendere parte a qualsiasi coalizione contro gli UTI è perché c'è appunto la posta in gioco e proprio i negoziati con gli UTI e quindi fare in modo che il percorso di negoziati non subiscono alcuna forma di deragliamento. A tale riguardo quindi vorrei appunto brevemente concludere che nonostante quindi l'escalation del Mar Rosso sia legato alla guerra a Gaza per i motivi che abbiamo appena elencato la fine dell'ostilità a Gaza non significa la fine della crisi del Mar Rosso le cose non sono interconnesse e questo quindi è per questo che è importante andare a guardare appunto alla dimensione locale motivo per cui ho cercato di illustrare tutti quanti gli aspetti di politica domestica che hanno influenzato e continueranno ad influenzare la postura strategica iemenita e degli UTI dello Yemen nel Mar Rosso e nella regione. Quindi sostanzialmente né Prosperity Guardian né appunto la nuova missione a guida europea Aspide che nonostante Borrello comunque abbia sottolineato che è una missione con un valore assolutamente difensivo e che non verranno compiuti alcuni attacchi contro target UTI nel territorio yemenita così come nemmeno la decisione statunitense di ridisegnare gli UTI come gruppo terroristico sono tutte quante azioni che non avranno alcuna forma di deterrenza sia nel medio che nel lungo termine nei confronti dell'attività degli UTI fino a quanto appunto non verranno veramente affrontate e l'Europa prenderà effettivamente consapevolezza delle cause profonde che è il conflitto civile in Yemen e gli squilibri di potere all'interno dello Yemen. Mi permetto di dire questa appunto una cosa che ho anche evidenziato nel mio articolo. Nel 2018 sotto la gita dell'ONU vengono raggiunti gli accordi di Stoccolma e sostanzialmente questi accordi che volevano evitare nella prospettiva appunto della comunità internazionale una catastrofe umanitaria e quindi hanno bloccato lo scontro momentaneamente tra gli UTI e il governo allora riconosciuto in realtà non hanno fatto altro che rafforzare e consolidare la posizione degli UTI in Hoseida che appunto si affaccia sul Mar Rosso e questo naturalmente e quindi possiamo dire che anche quello che stiamo vedendo oggi non è altro che il frutto del consolidamento della presenza UTI lungo appunto la costa iemenita che si affaccia sul Mar Rosso. Grazie mille, il contributo di Emily lo trovate, si intitola Gli UTI giocano per sé e penso che anche il tuo intervento di oggi abbia riassunto e molto bene questo concetto del si tratta di un contesto molto complesso che gioca però, che fa scuola a sé, che è influenzato dal conflitto israelo-palestinese ma non è direttamente causato da questo e ti chiederei però di spendere ancora due parole su quello che hai accennato nell'ultima parte del tuo intervento cioè quello che è un po' più il ruolo del noi cioè l'Italia, l'Europa, all'Occidente, quali sono le aspettative? Ad esempio ci dicevi finché non si prenderà coscienza del fatto che questa escalation è dovuta principalmente alla situazione locale nello Yemen non si riuscirà effettivamente a trovare una soluzione o quantomeno a intervenire in modo sensato. Sì, allora per quanto riguarda la missione europea, a Spides in generale, anche la stessa Prosperity Guardian sono delle operazioni che sulla carta appunto sono finalizzate a proteggere il traffico marittimo lungo il Mar Rosso ma che de facto non hanno alcuna forma di deterrenza nei confronti delle attività militari degli uti. Come accennavo prima anche gli attacchi statunitensi e britannici che non sono legati a Prosperity Guardian ma sono attacchi britannici statunitensi con il supporto di altre potenze, non hanno, anzi hanno contribuito possiamo dire ad alimentare ancora di più la narrativa degli uti di appunto paladini della resistenza palestinese, per esempio dopo gli attacchi statunitensi e britannici migliaia di manifestanti eminiti si sono appunto e hanno manifestato nelle principali piazze e strade soprattutto di sana ma non solo e questo ecco questo è un altro punto che vorrei sottolineare che nonostante quindi gli uti ancora una volta hanno capitalizzato su questo aspetto evidenziando il supporto, il crescente supporto nei loro confronti in realtà non dobbiamo confondere le manifestazioni degli eminiti pro palestina oppure appunto contro l'attacco statunitensi e britannici come un atto di fede nei confronti degli uti, cioè sono due cose differenti perché in questo caso si tratta soprattutto di condividere la stessa condanna nei confronti di un interventismo straniero proprio perché l'OIEM dal 2014 che sta vivendo un conflitto a più strati potremmo definire. Per quanto riguarda, ritornando alla tua domanda, alla missione europea, in realtà gli europei è stata più o meno la stessa dinamica nel trovare una posizione comune nei confronti di quanto sta accadendo a Gaza e dopo ci hanno messo un pochino prima di annunciare questa operazione marittima. Dovrebbe essere formalmente avviata il 19 febbraio, quindi all'indomani del Consiglio europeo del Ministro degli Affari Esteri, già ci sono le prime indiscrezioni, quindi per esempio il fatto che l'Italia potrebbe tra l'altro prendere il comando della missione, che è una missione puramente difensiva e questo è interessante perché da mio punto di vista evidenzia anche come l'Unione Europea voglia in qualche modo differenziarsi ancora una volta dall'approccio forse più muscolare e possiamo dire degli Stati Uniti nella regione. La stessa cosa per esempio era successa, mi ricordo, nel 2019 durante la cosiddetta crisi di Hormuz, quando appunto gli iraniani attaccavano le petroliere transitanti lungo lo stretto di Hormuz e anche in quel caso gli Stati Uniti avevano avviato un'operazione militare che ovviamente era da interpretare in chiave anti-iraniana e anche in quel caso l'Unione Europea ha optato per una propria missione che si chiama EMASO che appunto voleva prendere le distanze e soprattutto dare l'idea di un approccio più costruttivo nel garantire la sicurezza delle rotte marittime in questi colli di bottiglia così strategici. Grazie mille, adesso abbiamo parlato un po' più di Unione Europea, dobbiamo menzionare, anzi dobbiamo approfondire un altro importantissimo, deciderai tu come definirlo, diciamo l'alleanza atlantica, diciamo così, quindi la NATO. Prima tu l'hai citata, il tuo contributo in questo volume, la cita espressamente nel titolo e in particolare tu approfondisci il rapporto tra NATO e Turchia, ma ti chiedo più in generale adesso di raccontarci un po' in questa grande guerra, anzi questa guerra grande, senza confondersi, quale ruolo ha la NATO e quale ruolo hanno altri attori che cercano di prendersi uno spazio, in alcuni casi come la Turchia, ci riescono anche direi? La NATO è una delle manifestazioni insieme alla stessa Unione Europea dell'impero europeo dell'America. In questa guerra, nella guerra in Ucraina, tantomeno in quella in Terra Santa non c'è stato, ma anche perché non ci può essere, un ruolo specifico della NATO. Di fatto ciascun paese della NATO, come spesso accade, come sempre accade, è andato per sé, alcuni paesi sono rimasti più fedeli, più vicini, tra cui ovviamente l'Italia, alle indicazioni chiamiamole così degli Stati Uniti, altri paesi stanno evidentemente giocando per sé, primo tra tutti evidentemente la Turchia, che è un paese che sta nella NATO a modo tutto proprio, usa la NATO per perseguire i propri fini e non si fa usare dalla NATO, o meglio dagli americani, per perseguire invece fini che non le sono propri. Noi da questo dovremmo forse trarre qualche lezione. Non c'è solo la Turchia, la stessa Ungheria, come sappiamo, gioca una partita per suo conto. La stessa Polonia è addirittura considerata dagli americani un'avanguardia antirussa un po' troppo attiva da contenere. La Francia gioca un'altra partita, Macron ha spesso cercato, con scarso successo, di raggiungere una sottospecie di accordo o di favorire quantomeno una sottospecie di tregua o di cessato il fuoco in Ucraina più che altro perché Macron è molto preoccupato, e qui torniamo alla NATO, proprio dal ruolo che è riuscito a ritagliarsi Erdogan nella crisi in Ucraina, ma anche in quella in Terra Santa. Oggi il presidente turco è in Egitto, è al Cairo, per una visita particolarmente storica perché l'ultima volta Erdogan si era recato in visita in Egitto, paese che il presidente turco, come qualunque presidente o leader turco visitava piuttosto spesso, si era recato l'ultima volta in visita in Egitto nel settembre 2011, quindi subito dopo le primavere arabe. In quell'occasione, quando Erdogan arrivò al Cairo, la strada molto lunga che collega l'aeroporto del Cairo al centro cittadino era tappezzata di bandiere turche e di arabi festosi che sventolavano i ritratti del sorridente Erdogan. Oggi il clima, Erdogan fra l'altro in quel momento veniva dato dai sondaggi pubblicati sui media egiziani come vincitore con l'80-90% delle elezioni presidenziali in Egitto. Dopo la crisi, dopo il golpe contro Mohamed Morsi del 2013, naturalmente le cose sono molto cambiate, oggi Erdogan è stato accolto piuttosto calorosamente all'aeroporto dal presidente egiziano al Sisi e i due verosimilmente tra le altre cose hanno discusso una possibile iniziativa comune nella crisi di Gaza. Quindi la Turchia è un attore, è un paese fondamentale della Nato, viene spesso indicato come il secondo esercito della Nato, questo è un dato numerico che andrebbe un po' contestualizzato, ma certamente dopo gli Stati Uniti insieme alla Francia e al Regno Unito è certamente tra i paesi militarmente più potenti della Nato, certamente il paese che più usa con successo la sua potenza militare ed è appunto un paese che gioca per sé, circostanza che indispettisce molto i francesi, nostri alleati, grazie appunto al già citato trattato del Quirinale. Non a caso Macron parlò famosamente di morte cerebrale della Nato proprio dopo l'inizio dell'operazione militare realizzata da Ankara in Siria nell'ottobre 2019. Fra l'altro questa è forse la dimensione della geopolitica mediterranea e della guerra grande che noi dovremmo seguire con maggiore attenzione. Francia e Turchia per noi sono due partner fondamentali, la Francia ci è fondamentale per bilanciare l'egemonia tedesca in Europa e per allentare l'austerità imposta dalla Germania, quindi l'alleanza con la Francia è funzionale alla nostra sopravvivenza in termini economici. La Turchia sta diventando un paese sempre più fondamentale per noi perché come dicevo si è ormai definitivamente insediato nella nostra profondità difensiva. Fra l'altro a questo proposito vi faccio vedere rapidamente una carta che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. Questa carta che si chiama appunto carta del mondo turco dal 1993 e nel 93 Erdogan non era ancora nemmeno sindaco di Istanbul viene pubblicata per legge su tutti i manuali scolastici della Repubblica di Turchia, quindi il giovane turco che va il primo giorno di scuola all'elementari si trova davanti questa carta con cui gli viene spiegato chi è lui e che cos'è la Turchia e come vedete la Turchia è un'entità che non si limita ai confini della Repubblica di Turchia. Qui colorate in rosso in questa carta vedete la Turchia e gli stati turchi attualmente indipendenti. Colorate in giallo vedete le regioni abitate da Turchi che nei rispettivi paesi godono di autonomia ma la cosa più interessante sono quelle aree tratteggiate perché quelle sono regioni che vengono definite regioni turche non autonome cioè sono spazi dove vivono i turchi ma che non godono di autonomia nei rispettivi paesi e se ci fate caso ci sono delle aree tratteggiate in questo modo anche in Germania dove vive una folta minoranza turca circa 3 milioni e mezzo di persone che vive lì ormai da decenni ci sono turchi che sono nati in Germania da genitori turchi ma nati in Germania turchi che non hanno nemmeno passaporto turco nemmeno la cittadinanza turca e che però come dimostra il caso di Mesut Osile il calciatore tedesco che ha rinnegato pur avendo giocato e vinto un mondiale con la nazionale tedesca ha di fatto rinnegato la propria identità tedesca definendosi turca e facendosi fare da testimoni di nozze da Erdogan Osile è nato in Germania da genitori turchi ma nati in Germania e non ha cittadinanza turca quindi il turco il giovane turco impara che una parte della Germania è Turchia quelli non sono profughi non sono immigrati c'è una famosa poesia turca che recita il cucciolo di turco diventa lupo la terra calpestata dal turco diventa patria per cui dove va il turco quella diventa la patria il turco considera la Germania una parte potenziale della Turchia quindi noi affrontiamo un attore di questo tipo che ha una certa idea di se stesso e che appunto tornando al discorso della Nato sta nella Nato a modo suo cerca di usare la Nato per perseguire i propri fini si fa usare dalla Nato quindi dagli americani solo se gli conviene e noi proprio alla luce di quanto dicevamo prima dovremmo imparare qualcosa da questo tipo di approccio cioè imparare a muoverci nelle organizzazioni di cui facciamo parte l'Unione Europea la Nato e via dicendo in modo autonomo cioè badando ai nostri interessi nazionali e non facendo finta perché nessuno lo fa che esistano degli interessi europei degli interessi occidentali o degli interessi dell'umanità. Grazie trovo che di questa carta quello che mi ha molto stupito e anche molto interessato è proprio vedere come l'approccio è completamente diverso sin da subito cioè è proprio una proiezione completamente diversa noi studiamo geografia in tutt'altro modo in modo asettico senza una prospettiva noi la guardiamo dall'alto noi guardiamo tutto dall'alto senza metterci da una prospettiva italiana e in questo senso faccio vedere questa carta proprio perché la differenza tra una potenza imperiale come la Turchia tra un soggetto geopolitico e un oggetto di fatto come siamo noi sta proprio nella pedagogia nazionale cioè nell'esistenza di un sistema scolastico che insegni in questo caso al turco come si fa a essere turco che cosa vuol dire essere turco che tipo di responsabilità storiche geografiche derivano da questo senso di appartenenza è una cosa diciamo le potenze imperiali nascono nelle scuole il sistema pedagogico la pedagogia nazionale è l'arma più potente di cui un paese possa disporre un francese un russo un cinese un turco un persiano un americano impara a scuola che la sua cultura la sua tradizione culturale è diversa rispetto alle altre naturalmente migliore perché ciascuno pensa che la sua tradizione culturale sia migliore ma è diversa rispetto alle altre fonda su questa distinzione il proprio senso di appartenenza nazionale sì d'altronde penso che anche dal tuo intervento emily in realtà sia emerso come la narrazione ma soprattutto il come ci si percepisce e come si narra il proprio se siano fondamentali nella costruzione anche di un movimento come quello degli uti poi non so se avrei modo di approfondire ulteriormente io magari adesso raccogliere in realtà qualche domanda però insomma se vuoi approfondire un attimo momento c'è sempre ma allora io in realtà in riferimento appunto agli uti all'identità e al senso di appartenenza volevo semplicemente un po come accennavo anche l'inizio inquadrare anche un po il tipo di rapporto tra il cioè che il rapporto sussiste effettivamente tra gli uti questa aste della resistenza e quindi di riflesso naturalmente tra gli uti e l'iran perché soprattutto nei medio occidentali o comunque nella narrazione occidentale si tende molto spesso a classificare gli uti quindi questo anche riferimento al classificare appartenere come ci si percepisce si tende appunto a classificare gli uti come un attore di procura dell'iran quindi sostanzialmente come un attore che di per sé non ha una propria agency politica ma semplicemente è un burattino nelle mani del dell'iran in realtà non è così quindi se magari posso affrontare brevemente questa cosa prima di lasciare spazio alle domande innanzitutto quando parliamo io nel mio articolo per esempio definisco il rapporto tra iran e uti come un'alleanza di convenienza dove non c'è dove la questione di fede non c'entra assolutamente tra ma più che altro parliamo di un'affinità ideologica quindi di una comune di una condivisione possiamo dire di una ideologia islamista e allo stesso tempo di una comune narrazione che poggia su che cosa poggia su una narrazione appunto terzo mondista di conseguenza anti imperialista ovvero anti statunitense e anti sionista e un altro aspetto appunto da sottolineare è che il progetto riformista portato avanti dal fondatore del movimento degli uti è un progetto che innanzitutto assimila al suo interno una serie di ideologie che fanno capo al ruminismo dell'iran così come appunto al salafismo jihadista così come alla fratellanza musulmana e che soprattutto nasce come risposta a una immarginalizzazione economica nonché appunto ad una corruzione sistemica vissuta dallo Yemen tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 questo aspetto è importante perché quindi ci fa capire la dimensione locale di questo progetto e di come appunto gli uti stiano portando avanti una propria politica e sia all'interno del paese e poi appunto anche una propria politica estera il tema degli uti come un attore di procura dell'Iran è stato poi alimentato dallo stesso conflitto è un prodotto possiamo dire del conflitto in Yemen e soprattutto è stata una narrativa fortemente alimentata dalla stessa Arabia Saudita per giustificare il proprio intervento militare in Yemen nel 2015 ci tengo appunto a precisare questo aspetto poiché dobbiamo considerare che il concetto dello Yemen per esempio come guerra di procura, come teatro della nuova guerra fredda tra l'Iran e l'Arabia Saudita deve essere inquadrato all'interno di un mutamento anche degli equilibri di potere conosciuti dal mondo arabo a partire dal 2011 appunto le cosiddette primavere arabe nello specifico da un lato appunto l'ascesa della fratellanza musulmana quindi dell'Islam politico che da sempre terrorizza i paesi conservatori le monarchie del golfo perché soprattutto poi nel caso degli Emirati Arabi Uniti l'Islam politico viene percepito proprio come quella forza che va a disintegrare la sovranità statale e di conseguenza è un elemento di forte minaccia nel caso dell'Arabia Saudita dal 2011 vi è questa percezione di una crescente potenza da parte dell'Iran, di un Iran che acquisisce sempre di più una profondità strategica nei vari teatri regionali inoltre ricordiamo che nel 2015 viene siglato l'accordo sul nucleare con la loro amministrazione Obama e tutti questi aspetti se uniti aumentano la percezione da parte Saudita della minaccia dell'Iran e di conseguenza lo Yemen diventa il teatro in cui sicuramente vediamo anche un confronto tra Iran e Arabia Saudita però l'attività degli usi deve essere inquadrato sia all'interno di questo confronto però non è soltanto questo e questo appunto è un aspetto che ci tenevo a precisare grazie a tutti